Però ovviamente prima vorremmo conoscerla un pochino meglio. Dottore, ci puoi raccontare da dove nasce la passione per gli animali? Vengo preso in giro spesso per questa cosa, perché in realtà la mia era una passione per la medicina. Ricordo che quando arrivai allo sportello delle iscrizioni a Perugia, all'Università di Perugia, c'era una fila interminabile a medicina, la fila a veterinaria era più corta e quindi avevo poco tempo e ho detto vado a veterinaria. No, in realtà è successo veramente questo. Comunque sono sempre stato un amante degli animali, ho avuto sempre in casa i classici cani, i classici gatti, sono del sud, sono di Lecce e lì insomma anche adesso ho ancora la cultura per il veterinario, per l'animale, per il pet, non è così, sta arrancando ma quando all'epoca ero piccolino, quindi si parla di tanti anni fa, mica come vuoi, sono giovanissimi e allora era ancora più difficile. Però ho sempre avuto animali e quindi è stata una passione che mi ha sempre spinto ad andare avanti in questa direzione. È vero, abbiamo raccontato anche più volte che anche l'abbandono degli animali in alcune zone d'Italia è ancora troppo, troppo, troppo prepotente. Lavoro anche giù nel sud ma ecco, sicuramente le realtà sono un po' diverse ancora. Eh sì, bisogna studiare e portare il verbo giusto, quello del mondo animale, quello vero, buono. Dottore però, ok, ha fatto una scelta, ha visto una fila numerosa per medicina, una un po' meno numerosa per veterinaria, però perché poi ha scelto proprio di occuparsi degli occhi? In realtà la scelta di occuparmi degli occhi è venuta subito dopo la laurea, perché facevo il militare a Firenze, ricordo, c'era un docente dell'Università di Perugia che si occupava, cominciava a occuparsi un po' di oculistica e eravamo in buoni rapporti, lo chiamai nell'ambulatorio dove facevo un po' di pratica, a Firenze, e lui venne con questi strumenti, con queste cose un po' strane all'epoca, anche perché quando ho fatto l'Università di Oculistica non se ne parlava. E quindi la cosa mi ha affascinato, mi ha affascinato e da lì ho cominciato da subito, dopo la laurea, a cominciare a studiare gli occhi, a rifrequentare un pochettino, a riprendere un po' di testi, un po' di libri e a cominciare a fare poi i vari corsi. E la cosa continua per fortuna ad affascinarmi, perché è un mondo che dall'esterno è difficile comprendere, ancora molti veterinari lo approcciano poco, ma è un mondo affascinante. La vista e anche la struttura oculare, bellissimo. E lo scopriremo insieme, anche se per poco, però insomma in questa puntata. Grazie dottore.